Aloe Activator Aloe Activator contiene gel stabilizzato di aloe vera e allantoina, un agente organico necessario per il rinnovamento cellulare. Aloe Activator è un idratante eccezionale, contenente enzimi, aminoacidi e polisaccaridi. Ideale da usare unitamente a mask powder, questo prodotto nutre, deterge e mantiene la pelle in buono stato. Le cellule morte vengono rimosse dalla maschera e la pelle del viso apparirà fresca, luminosa e raggiante. L'aloe vera stabilizzata rende il prodotto delicato anche per la zona del contorno occhi. Aloe Activator è un prodotto incredibilmente versatile. Anche se considerato uno dei prodotti principali del trattamento Aloe Fleur de Jovance, è estremamente efficace per altri numerosi utilizzi. Ad esempio, è un ottimo detergente e astringente. È semplicemente necessario applicare Aloe Activator su viso e collo, servendosi di un batuffolo di cotone fino a una completa pulizia della pelle. Consigli per l'uso Consultare le indicazioni contenute nel kit Aloe Fleur de Jovance Consultare le indicazioni contenute nel kit Aloe Fleur di Jovance